Da 30 anni rappresenta un segno di ripresa del tessuto culturale e sociale, il premio della bontà. Si consegna a Rustigazzo a chi si è reso disponibile ad un servizio, un omaggio privato che diventa universale, spegne le gazzarre con un canto di solidarietà. Un forte segnale vogliamo dare da Rustigazzo per un giorno capitale della bontà, proprio attraverso questi importanti premiati. Il segnale forte che si vuole dare è che uniti e soprattutto condividendo anche grossi problemi si riescono a superare, guardare al domani con serenità e soprattutto con entusiasmo. La chiesa parrocchiale è palcoscenico dell'incontro affollato. La preghiera, il prologo del sindaco, Jonathan Papamarenghi, precedono l'attesa delle armonie che hanno richiamato l'attenzione del comitato, la prorustigazzo. Il coro Montegiogo di Lugagnano, diretto dal maestro Paolo Burzoni, Roberto Sidoli e il pianoforte, compongono la colonna sonora del rito, sospeso tra commozione ed entusiasmo. Valeria Tedaldi, assessore al comune di Lugagnano, invita sulla scena i destinatari dei premi. Racconto di loro brevemente, legge il verbale del comitato. Menzione d'onore all'appuntato Luca di Pietra la Memoria, al servizio dell'Italia, alla tutela degli italiani, fino all'estremo sacrificio e all'appuntato scelto Massimo Banci, al servizio dell'Italia a rischio della vita. Menzione d'onore a Ottavio Perotti, per la solidarietà di dedicarsi completamente all'amico malato. Alla fondazione Operazione Smile, ridona il sorriso curando bambini di oltre 20 paesi. Alla congregazione Missionari di San Carlo, da sempre fattivamente vicina ai nostri emigranti. Premio della bontà 2014 alla seconda classe B di Cunardo di Varese. La storia la racconta dall'altare un'alunna a nome degli amici, a noi l'aveva anticipato sulla piazza del Borgo. Mine è arrivato in Italia dal Marocco, in terza elementare. È stato accolto in una classe dove ha imparato a comunicare con tutti. È stato accolto molto bene, si è integrato molto bene. Grazie a lui siamo riusciti a far arrivare il nostro messaggio a molte persone. Perché la LIS è la lingua dei segni che ci permette di comunicare con le persone sorde, non mute, ma sorde. E quindi per favorire l'integrazione di tutti. Consegna il premio il sindaco di Lugagnano, tra applausi da stadio e mani alzate. Poi il brindisi, Vendoneur, il sindaco di Cunardo, la dirigente scolastica. Lasciano l'ostigazzo non prima di aver raggiunto il loro commento. Non sapevamo sindaco dove fosse Cunardo. Questa iniziativa che è partita dal nostro comune e dalla nostra scuola, ci ha dato la possibilità di conoscersi. Ma non solamente di conoscere, ma di portare avanti un discorso davvero importante per il futuro di tanti giovani che hanno queste problematiche. Preside una volta tanto una bella lezione dei ragazzi. La lezione ce la stiamo dando tutti assieme. I bambini, gli insegnanti, la preside, il comune, l'ufficio scolastico territoriale. Ognuno aiuta l'altro. E questa realtà è possibile proprio perché abbiamo messo insieme tutte le forze. La bontà si è rifugiata in un piccolo paese, in un angolo. Speriamo non si rifugi in un angolo della memoria, ma di laghi a confortare disagi e solitudini. Il premio impone di riflettere senza indulgenze o sotterfugi e conseguentemente cambiare e cambiarsi.